Povere creature di Yorgos Lantimos è un film che racconta l'evoluzione del personaggio di Emma Stone, ovvero Bella Baxter, creata dal genio di Godwin Baxter, interpretato da Willem Dafoe. Qui cercheremo di capire il significato della pellicola e ciò che Yorgos Lantimos ha voluto cercare di raccontarci con uno dei film più aspettati del 2024. Ovviamente ragazzi farò un po' di spoiler riguardo il finale di Povere creature, quindi se non avete visto il film andate a recuperarlo perché è eccezionale come ogni film di Lantimos e come ogni film del regista greco appunto ha delle cose in comune. Iniziamo quindi a parlare un po' del film in maniera più specifica, quindi se non avete visto il film ci rivediamo dopo che l'avrete guardato. in sala perché è un film assolutamente da guardare in una sala cinematografica per la sua scenografia e tutto quello che Lantimos ha voluto regalarci. Innanzitutto partiamo col dire che l'evoluzione di Bella Baxter è incredibile. Infatti l'esperimento che Godwin Baxter, detto God ed il gioco di parole già a suo dire è di per sé fantastico appunto perché God uguale a Dio e che ha creato appunto è incredibile. Infatti il dottor Baxter immette, trova il corpo appunto di Emma Stone, di Bella Baxter deceduta che si era gettata da un ponte e incinta e quindi si innesta il cervello del bambino all'interno del cervello della donna, quindi scambiando i due cervelli o meglio immettendo appunto quello del bambino. Di conseguenza abbiamo una donna adulta con il cervello di un bambino in pieno sviluppo che man mano dovrà scoprire tutto quello che il mondo gli riserva, da come camminare, come parlare e l'evoluzione innanzitutto, l'interpretazione di Emma Stone è stata eccezionale proprio perché l'attrice doveva pian piano far la bambina, quindi interpretare una bambina dentro il corpo di un'adulta e man mano doveva scoprire e iniziare la sua evoluzione, la scoperta del suo corpo perché in questo film appunto il sesso è la base che guida il motivo trainante appunto del film che guida Bella Baxter alla ricerca del mondo e della sua scoperta in generale e quindi man mano vediamo questa evoluzione fino alla fine e come viene guidata la sua crescita anche intellettuale. Un film che vede molto i personaggi maschili tendenti a voler controllare a tutti i costi questa donna che di per sé è quindi una bambina ma che in qualche modo nella sua ingenuità perché non conosce il mondo riesce a mettere in difficoltà questi uomini che vogliono a tutti i costi avere il pieno controllo su di sé un caso specifico è il personaggio di Mark Ruffalo ovvero Duncan Weatherburn uno dei personaggi più viscidi che il film ci presenta perché è questo Don Giovanni che si presenta come un Don Giovanni che vuole a tutti i costi portare con sé Bella Baxter e soggiocarla con le sue maniere da gentiluomo di da spezza cuori nonostante la sua fama da ruba cuori non riesce in nessun modo a far innamorare di sé Bella perché nonostante lui cercasse in tutti i modi di spingerla indirettamente vicino a lui respingendola lei quando lui dice sì però non innamorarti di me dopo che sono andato a letto e lei dice va bene tanto non avevo intenzione di innamorarmi lui da lì inizia ad impazzire perché ogni sua certezza viene meno ed è qui che si inizia a capire come gli uomini lo riescono a controllare Bella e lei si libra da questo soggiocamento di diversi personaggi maschili che incontra perché ognuno ha modo suo ha dei diversi difetti dei diversi modi di controllarla o di cercare di farlo almeno durante la sua fuga con Duncan Bella capisce che dopo vari incontri con diverse persone tra cui appunto un altro personaggio maschile molto cinico che sottolinea la crudezza del mondo e in un certo senso invidia Bella per la sua ingenuità perché non conosce la crudeltà del mondo lui in quel momento fa vedere a Bella quando sono ad Alessandria questa Alessandria immaginata da Lantimos dei bambini che morivano di fame sotto delle macerie e lì Bella cerca ad ogni costo di volerli aiutare e si capisce che il personaggio maschile incontrato su questa nave dove Duncan l'aveva portata per evitare le sue fughe era invidioso dell'ingenuità di Bella della sua voglia di conoscere il mondo e della sua positività e quindi ha mostrato il lato scuro della vita ed è proprio lì che capiamo quanto questo uomo sia geloso della sua ingenuità e anche Bella glielo sottolinea dicendo appunto che lui è un uomo cinico che non riesce a togliersi di dosso il peso della negatività del mondo ed è proprio per questo che ha voluto far vedere a Bella quello che è uno dei lati più brutti dell'umanità durante questo viaggio su questa nave Bella e Duncan spesso litigano perché lei man mano scopre se stessa e quindi in diverse occasioni vuole magari scoprire se stessa quindi magari anche masturbandosi e cerca di capire in diverse occasioni cos'altro c'è che il mondo può regalarle proprio per questo Duncan non vuole che lei esca e cerca in tutti i modi di chiuderla in camera ma qui è evidente come proprio il personaggio di Mark Ruffalo arrivi a capire che non può controllare Bella e alla fine quando lei decide di dare tutti i soldi per aiutare questi bambini che vedeva affamati capiamo come i marinai della nave gli dicono che i soldi li prendevano loro per darli poi a bambini ma effettivamente quei soldi poi capiamo che se li sarebbero tenuti loro cacciati dalla nave arrivati a Parigi qui arriva la parte nella quale capiamo come Bella scopra se stessa e affrontando appunto dei vari problemi abitando in questa casa in questo bordello di alto borgo dove si prostituisce e man mano conosce se stessa andando con diversi uomini e pian piano acquisisce altre altre verità di questo mondo che lei non conosceva per niente fino a quando arriva il messaggio di Godwin Baxter il suo papà creatore nel quale dice che sta morendo quindi lei decide di tornare a Londra qui abbiamo finalmente la riunione tra i due e tra il personaggio di Max qui i due si sposano e si iniziano a sposare perché era stato fatto un patto da Godwin e appunto da Max per sposare Bella ma vivendo in casa quindi tenendola rinchiusa ed evitare di esporla al mondo proprio per questo suo esperimento e cercare quindi di non esporla dalla malvagità che appunto l'umanità ci riserva sempre durante il matrimonio c'è il ritorno di Duncan il personaggio di Mark Ruffalo che ha scoperto la vera identità di Bella durante il loro viaggio in nave lei si chiama quindi Victoria Blessington ed è sposata con Alfie Blessington personaggio alquanto austero molto duro con lei che la picchia ed è troppo protettivo più che protettivo vuole fare il padre padrone quindi rinchiudendo Victoria e voleva avere quindi il pieno controllo della vita di sua moglie nonostante questo però capiamo che Bella decide di andare con lui decide di abbandonare Max e il padre per tornare a casa con Alfie il suo primo marito diciamo il suo vero marito della sua vita precedente quando ancora non è stata resuscitata da Godwin Duncan decide quindi di presentare di far tornare insieme i due ma perché lo fa? perché visto che non può averla lui stesso allora vuole rovinarle la vita trovando il suo vero marito e quindi riportandola alle origini questo dimostra quanto quell'uomo quel personaggio sia viscido e infido e quanto lui voglia nonostante avesse preso una batosta nonostante Bella sia stata chiara nel non voler stare più con lui di voler controllare lo stesso la vita di Bella così come fa Alfie nonostante capisse che Alfie non sia un bravo uomo Bella decide comunque di andare da Alfie e abbandonare il suo futuro marito quindi Max e suo padre perché lo fa? Bella decide di andare con Alfie per continuare ad imparare per capire per scoprire la verità su quanto è accaduto il perché Victoria si sia buttata dal ponte nonostante fosse incinta qui capiamo come appunto Alfie sia un marito sgradevole violento che vuole comandare su ogni aspetto della vita di Bella ed è qui che Bella ha una nuova rivelazione un nuovo sviluppo una nuova liberazione da un altro personaggio maschile possessivo quindi è un nuovo inizio per lei che decide quindi di lasciare la casa e nella colluttazione che si crea durante la sua voglia di fuggire Alfie si insomma Alfie si ferisce a un piede e quindi Bella chiama Max per aiutarla a non farla morire dissanguato e lo portano al laboratorio dove abbiamo un ennesimo sviluppo di Bella quindi perché Bella poi decide quindi di tentare la strada del padre ed creare lei un esperimento sul corpo di Alfie ancora in vita perché vuole innanzitutto diventare medico quindi vuole cercare di aiutare l'umanità nel miglior modo possibile e quale modo migliore è se non quello di diventare medico per cercare di fare il suo meglio dopo aver visto il peggio dell'umanità quando era sulla nave da crociera proprio per questo Bella decide di percorre la strada di Godwin Baxter e quindi di diventare un medico anche se particolare perché come capiamo il suo primo intervento il suo primo esperimento è quello di scambiare il cervello di Baxter con quello di una capra ovviamente l'esperimento riesce come vediamo alla fine del film il personaggio di Alfie bruca felicemente l'erba della villa dei Baxter mentre un'altra ragazza alla quale è stato scambiato il cervello di suo figlio quindi nuovamente lo stesso esperimento che è stato poi fatto su Bella è lì con loro che sta a significare come la ruota giri di nuovo e il percorso continui nuovamente sulla falsa riga di quello che ha fatto Bella quindi nuovamente si continuerà a creare una nuova vita e una nuova voglia di imparare perché non si finisce mai di imparare un film che Lan Timos ha voluto creare perché ispirato dal romanzo da cui è tratto ha deciso di parlarne e visto che affronta molti argomenti di cui proprio il regista molto spesso parla nei suoi film come per esempio Doctut Kino Dontas per i più amanti del genere affronta quindi la voglia di libertà da una figura maschile ingombrante che cerca a tutti i costi di tarpare le ali alle donne della sua vita e non vuole che appunto queste figure femminili siano migliore di lui stesso ragazzi io spero di essere stato chiaro perché poor things lo ha amato alla follia e credo che Emma Stone possa vincere l'Oscar nonostante la grande interpretazione di Lily Glaston in Killers of the Flower Moon insomma un comparto tecnico incredibile perché l'Antimos non si smentisce mai ma ditemi la vostra che cosa ne pensate di povere creature e se andate a guardarlo fatemi sapere con un commento qui sotto io vi ringrazio per avermi seguito finchì io vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo di mettere mi piace al nostro canale ciacca azione e cliccare sulla campanellina per avere sempre le notifiche attive e rimanere aggiornati sui nostri prossimi video e le live ciao a tutti buona giornata da Valerio Verrone e da Ciaccazioni grazie a tutti